Su Italia 1, la magia non finisce mai. Ieri un mago è entrato a New York con una valigia. Che diavolo è? Non credo sia un sogno. Non ho la capacità di immaginarvelo. Dal meraviglioso mondo di J.K. Rowling, animali fantastici e dove trovarli. E animali fantastici, i crimini di Grindelwald. Prossimamente, su Italia 1.